Ciao tesoro mio, come stai? E' passato delle buone feste? Sì, io sì. Sì, mi trovavo qui ad aggiustare un po' la mia stanzetta. Dimmi però, ti vedo stanca in volto? Hai bisogno un po' di... vuoi un po' di coccole? Ti vedo un po' stanca in volto, sì. Ah, ultimamente hai fatto tanto sotto questa festa? Hai lavorato tanto? Beh, senti io adesso potrei farti rilassare se ti va, se per te non è un problema, tanto siamo amiche. Senti, stavo pensando di farti una detersione, visto che ogni volta che mi viene a trovare facciamo sempre make-up. Cosa ne pensi invece se oggi facciamo una bella detersione viso? Ho delle zambotte di gatta fantastiche da farti vedere che passeremo sul viso, che ne dici? Sì, te le mostro subito. Allora le vado a prendere, aspetta un attimo. Aspetta. Ok. Eccole qua. Te le mostro subito. Vedi? Allora, queste praticamente, tu le infili da qui e con la mousse detergente vai a fare una detersione cutanea sulla pelle, così. E' quello che oggi andrò a fare con te. Ok? Le passeremo sul viso, come ti dicevo, con questa mousse qui, che ci aiuterà a detergere delicatamente la nostra pelle. Ok? Sì, sì. Tu ti devi solo lì rilassare, chiudere gli occhi. Devi pensare a nulla. Sì, anche io ultimamente sono piuttosto stanca. Sì, vado a letto tardi la sera, quindi sono abbastanza stanca tutti i giorni, però sono sempre vivace, nonostante ciò. Allora, questa è un acqua, un mousse, che diventa schiuma una volta che viene fuori. E allora, come ti dicevo, non l'applicherò sulla mano, ma direttamente. Ma direttamente non l'applicherò sulla mano, ma direttamente qui sulla zampotta. Ok. Vado a massaggiarti il viso dolcemente. Poi mi aiuterò anche con l'altra zampotta di gatto. Ok. Massaggiamo il viso dolcemente. Giuseppe, Again, Musica, scopiva. So, La parte, Now, era bene, perfetto ok detenzione bella e intensa si avevi un filino di matita che non si è tolto bene va bene dai se dopo la detenzione non si è tolto usiamo lo struccante occhi dai non ti preoccupare delicato anche quello vado a toglierti questa detenzione con i dischetti poi si 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 ok je e i più ok, togliamo tutto, tutto, tutta la detersione ok ok bene perfetto temi che ci sia ancora un po' di matita sulla rima sulla rima sotto allora prendiamo un dischetto pulito e utilizziamo questo detergente mi fa un sicuro molto delicato non le permette uno struccante aggressivo ed è proprio per gli occhi vedi per gli occhi ok ok no ma te lo passo molto delicatamente non ti preoccupare la pelle proprio si sente più rinfrescata ok c'era poco poco di matita ma giusto un po' ecco la terza abbiamo fatto prima praticamente tutto ok adesso ti vado ad asciugare tamponare lì la zona contorno occhi con questo dischetto asciutto ok ecco andiamo a tamponare andiamo a tamponare andiamo a tamponare a tamponare ok andiamo a tamponare bene senti poi voglio metterti questo siero molto idratante davvero molto 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 idratante per te non è un problema e poi ti voglio far vedere cosa mi ha regalato mia sorella per Natale te lo voglio provare a te e si è un prodotto bellissimo te lo faccio vedere e 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 ok ok ora non siamo più soli i miei vicini di casa hanno deciso di di chiacchierare cosa che accade spessissimo ultimamente quindi va bene va bene va bene mettiamo le gocce di siero le gocce le gocce le gocce per per il massaggio viso E poi ti faccio vedere i rossetti, ok? Sì, sono belli Sono della Yuda Beauty Yuda Beauty, si legge così? Non lo so Però sono buonissimi, sono dei prodotti stupendi Proprio stupendi Stupendi, stupendi Sì, purtroppo ho avvicinato abbastanza attivo Eh sì Ok Adesso ti faccio vedere Questa che me l'ha regalata mia sorella Yuda Beauty Me l'ha regalata per Natale Una bocca Vabbè sì Si capisce già cosa c'è al suo interno? Allora, al suo interno, come puoi vedere, la confezione regalo È composta così C'è Al centro una matita contorno labbra nude Poi qui il rossetto e qui lo step finale È lo Yuda Beauty Silk Palm È un balsamo labbra brillantato È quello che ho io addosso Però quando lo stendiamo si vede troppo acceso Ma è bellissimo E volevo Provarti Provarti Questo La matita La matita La matita Ok Poi passiamo E accalamita A questo favoloso rossetto Ok E allora mettiamo il rossettino per bene Vedi quanto è bello Che bel colore Solo nude Stupendo Stupendo Deciso che me ne comprerò altri Di questa marca Troppo troppo bello Vedi che bel effetto che fa su di me Ok Anche se non stiamo facendo il make up Però mettiamo almeno un po' di rossetto Ed infine Cioè davvero io questo lo uso anche quando non mi trucco gli occhi Cioè Da volte risalto solo le labbra Stupendo Stupendo Ok Step finale Brilli adesso Brilli come il sole E ok Vado a rimettere a posto Sì ci tengo troppo queste cose Mi piacciono da impazzire Troppo belle Ok Allora Sì se la vuoi comprare Anche tu la puoi trovare La puoi trovare su internet Profumeria E anche se tutto Più da piutisi Adesso ti vedo un po' più rilassata Hai fatto baldore Tutte queste sere Festive Vabbè Queste festività Hai fatto baldore Ci sta Ci sta Beh allora Ti aspetto Di nuovo Quando vorrai rilassarti Ok Ciao piccola Alla prossima Alla prossima Alla prossima